Allora, guardate, questo è un rametto di una pianta parassitato da alcuni insetti, afidi, parassiti, hanno la caratteristica di avere l'apparato boccale pungente, succhiatore, guardate, introducono uno stiletto, guardate qui, nella parte superiore, il primo ha già inserito lo stiletto nella pianta, guardate, succhiando, lo introduce all'interno del floema, nei tubi cribrosi del floema, per succhiare la linfa elaborata che la pianta ha elaborato con la fotosintesi clorofiliana, e si nutrono di questo accrescendosi, logicamente danneggiano la pianta, no? Vedete, ci sono forme prive di ali, nelle forme più adulte invece hanno sviluppato le alise, vedete, quello che sta transitando adesso nell'immagine del microscopio è dotato di alive, lo vedete? Sto cercando di mettere a fuoco, ecco, eccolo qua, guardate, un altro si sta muovendo ancora piccolino, sta cercando una posizione per poter succhiare, sposto un attimo il rametto, eccolo qua, e qua osserviamo proprio questi afidi che si spostano sulla pianta, guardate, questo l'ho preso nel mio giardino appunto, questo lo metto da una pianta infestata, possiamo dire, da questi insetti, normalmente danneggiano anche piante di coltivazioni, di ortaggi, e quindi è necessario poi errorare con degli insetticidi per poter eliminarli, perché sennò la pianta viene danneggiata e non fruttifica come dovrebbe, eh? Sto spostando ulteriormente il rametto, vedete? Alcuni stanno cercando di trovare la posizione giusta, altri invece hanno già trovato, guardate, hanno inserito già lo stiletto e stanno succhiando la linfa.